No, fantastico De Cecco, fantastico De Cecco, una mano dietro per Frey, che ha fatto la difesa. Cosa ha fatto? Cos'è? Cosa ha fatto? Rivediamolo. Ma che numero è? Allora con la punta delle dita, con la punta delle dita De Cecco. Pazzesco. Oltre al servizio, sbaglia. E' il muster.